Padre Pio è conosciuto in tanti contesti e ognuno legge la sua vita, diciamo così, in tanti modi. Per qualcuno è semplicemente anche una persona che ha saputo fare tante cose anche nell'ambito sociale, ha voluto, ha fatto sì che l'ospedale Casa Soglievo fosse lì. Ed è un tempio anche della scienza, qualcosa che... Ecco, Padre Pio ha tanti meriti, in tanti campi, anche quello sociale, ma ecco, credo che Padre Pio per prima desiderasse essere, e desideri essere considerato da noi come un maestro di preghiera, come colui che è stato capace di avvicinarsi a questo roveto ardente e si è fuso in questo roveto ardente, ha partecipato profondamente a questa comunione con il Signore e chiama i Suoi figli spirituali, coloro che lo amano, che sentano la sua intercessione, ma soprattutto il suo incoraggiamento ad entrare in questo squarcio, in questa finestra, per vivere pienamente questa esperienza bellissima di paradiso già su questa terra, attraverso tutti i modi e tutti i contesti nei quali il Signore ce ne fa partecipare.